Stanotte amore non ho più pensato a te quindi abbiamo chiesto tutte le cani con i nostri produttori Umberto Gattic e Tony Renis e il nostro manager Michele Torpedine abbiamo chiesto le cani insieme perché è davvero difficile solo perché siamo tre ragazzi i nostri produttori hanno troppo esperienza troppo o troppo? troppo esperienza troppo esperienza ma per dire troppo abbiamo chiesto tre linguaggi inglese, spagnolo e italiano e ci sono cani tradizionali italiani e cani spagnoli, cani inglesi come Smyre di Charlie Chaplin credo che in nostro album ci sono cani di tutti i anni perché il nostro tipo di musica non è opera è operatico pop non è pop e non è opera potresti raccontare più cosa è operatico pop? è operatico pop nessun dorma la bohemia e la bohemia è una canina è una canina tradizionali italiana con Piero parlare 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 sono italiani tradizionali stessi spagnosi e inglesi perché nel nostro album non c'erano operazioni. Il DIVO è una cosa diversa, il stesso tipo di musica, ma una diversa gruppa. Siamo giovani e il DIVO è... Over 30 anni. Quindi stai facendo la città per i ragazzi? Credo che nel DIVO abbiamo il stesso tipo di musica. Il Volo è il DIVO. Il Volo è il DIVO è il DIVO. Il DIVO è 4 persone. Siamo diversi, siamo diversi. No, siamo diversi, ma è completamente diversa. La nostra musica è come Giorgio Groban, il DIVO e Andrea Bocelli anche. Sì, nel principio. Perché ora Bocelli sta facendo opera. La vita è cambiata. È incredibile. Perché io, due anni fa, ero in casa dove ho spavato con i miei amici. dove ho spavato con i miei amici. E ora sono qui in Malesia. Allora il mondo. Allora il mondo. Ho intervisto, la TV, la radio. Ma in un tempo gratis, noi spavamo con i miei amici, facciamo con i miei amici, facciamo i miei amici. Do you know i miei amici? Sì, come i miei amici. Raleigh, Formula One. Io amo i miei amici. anche i miei amici. Io amo i miei amici, ma mi amico tutto, come la voce e l'erflame. E' Roma. E' Milano. E' Milano. Ah, ok. Il mio amico preferito è Francesco Totti. E' Messi nel Barcellona. Ah, Messi. I know Messi. E' Messi. Piero. Piero. Gianluca. 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 No, Gianluca. Io non sono un duca. Gianluca. Is it Gianluca? Is that it? Gian. Gian. No, no, Gian. Gian. D. J. Gian. Piero. Say Piero. 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 Gianluca. 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 Did I get it? No, Piero Gianluca. Piero Gianluca. Piero Gianluca. Piero Gianluca. Piero Gianluca. No, Ignazio. 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 Because the sound of J plus to N is, the sound in Italian is Nye. Ignazio. 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 Ok? Ed il giorno verrà, la notte amore non ho più pensato a te. A te. Ignazio. 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 Ignazio.